Il centro storico di Sala Consilina torna ad indossare l'abito del 1535 per far rivivere l'epoca in cui Carlo V attraversò la cittadina salernitana. Dal 3 al 5 agosto vicoli e piazzette faranno spazio a cortei storici, spettacoli d'epoca ma anche alla gastronomia locale. In centinaia sfileranno per il paese con accostumi risalenti al 500. Lungo il percorso i visitatori potranno ammirare portali in pietra e chiese, visitare antichi palazzi gentilizzi aperti a pubblico per l'occasione come pure la grancia di San Lorenzo, storica dipendenza della Certosa di Padula. La nostra caratteristica evidenzia Antonio Romano, presidente dell'Associazione Arte e Mestieri, è la qualità dei numerosi spettacoli insieme al curatissimo allestimento di mercati rinascimentali ed orientali accampamenti militari e taverne. Carlo V in effetti domenica sarà interpretato dall'attore Fabio Fulco. L'attore che è molto stimato perché ha fatto sia teatro che ha fatto sia ovviamente cinema e soprattutto è un attore di origine napoletana. Credo che quest'anno sarà una delle manifestazioni più spettacolari e più interessanti di tutti i 25 anni. È una manifestazione molto importante e attesa a Sala Consilina, sottolineano il sindaco Cavallone e l'assessore Lombardi. Una manifestazione molto importante perché fa rivivere una parte nevralgica del nostro paese in questi tre giorni con l'afflusso di tantissime persone, non solo di Sala Consilina ma anche di fuori del nostro territorio. Grazie. 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 Grazie.